Quando l'Italia presenterà in ottobre prossimo i progetti sui quali ci saranno finanziamenti europei importanti, spero che quel giorno quei piani vengano discussi con molta attenzione, approfonditamente, e che ci sia un seguito di controllo passo per passo nella loro realizzazione. Lo spero perché l'occasione che si offre all'Italia oggi è un'occasione irripetibile per le presenti generazioni. L'Unione Europea aveva reagito per tempo e con efficacia, con gli strumenti che c'erano in quel momento, aumentando la base monetaria, rendendo possibile l'indebitamento, facendo meno i vincoli di bilancio per rispondere alle esigenze della pandemia. Il Consiglio Europeo, cioè l'Unione dei Capi di Stato e di Governo, ha aperto a due principi molto importanti. Il primo è quello dell'indebitamento comune, che per certi aspetti c'era già in Banca Centrale Europea, ma qui assume una funzione più istituzionale. E il secondo è il trasferimento di denari, non da uno Stato all'altro, che sarebbe comunque proibito dai trattati, ma dalle istituzioni dell'Unione ai singoli Paesi, perché la ripresa non divarichi troppo la sorte futura dei Paesi europei, in modo quindi da rimanere uniti. Sono risultati molto importanti, che sono una pubblicistica ottusa, nazionalistica, ma nel senso più scemo del termine, l'ha potuto fare nella versione agli olandesi, agli italiani, ma sono cose di una nefandezza, di una pochezza assoluta. Sono democrazie le nostre. E gli oppositori del governo olandese in Olanda sono gli alleati degli oppositori del governo italiano in Italia. E i due sostengono, gli uni che non si deve dare un centesimo all'Italia, perché sono solo dei dilapidatori, l'opposizione olandese, e in Italia sostiene che quelli europei sono solo prestiti, che quindi non c'è nessuna novità, anzi è un cappio al collo. E sono alleati al Parlamento europeo. Sono solo prestiti. E perché? Che hanno di... A parte il fatto che non è vero, ma i prestiti? Noi dobbiamo cercare ogni giorno, come Italia, sui mercati, di farci prestare i soldi per mantenere la spesa pubblica. Ogni giorno. E il problema non è solo trovare quei soldi, è sapere quanto li pago. E grazie alla Banca Centrale Europea dal 2012 li paghiamo molto meno di quello che altrimenti sul mercato ci costerebbero. Così come con l'arrivo dell'euro abbiamo pagato meno di quanto si pagasse in passato. Prima avevamo un debito doppio, scusate, avevamo un debito alla metà e pagavamo il doppio di interessi. Adesso abbiamo un debito doppio e paghiamo la metà degli interessi di allora. Bisogna essere responsabili. Ricordarci che quell'accordo del Consiglio Europeo deve ancora passare ai Parlamenti Europei perché sono democrazie, perché sono stati di diritto. Quindi cerchiamo di non dire troppe cretinate nel frattempo. Perché le cose dei governanti italiani che dicono e adesso diminuiamo le tasse, no? Le leggono anche fuori. Le tasse, la pressione fiscale in un paese si diminuisce diminuendo la spesa pubblica, diminuendo e aumentando la qualità della spesa pubblica, non facendo gli sconti con i soldi degli altri, diminuendo la pazzotica concentrazione di scadenze fiscali che rende tutto molto più difficile, tutto molto più costoso. Queste sono le cose che vanno fatte. La nostra problema nei prossimi anni non sarà quello di governare il rapporto con i vincoli che il piano Next Generation comporta. Il nostro problema sarà quello di essere all'altezza delle sfide che Next Generation pone. E se riusciremo ad arrivare all'indomani di questa stagione, avendo utilizzato i fondi come li si utilizzati fino adesso, cioè sostanzialmente in gran parte sprecandoli, e portando a quel dopo un'Italia ancora divisa tra un Nord che è comunque parte di una fascia produttiva europea e un Sud abbandonato e definanziato, quando riusciremo a fare questo o avremo portato al Sud altro assistenzialismo, altri assegni per i nati, altri posti di lavoro nella scuola per gente che non sa insegnare, quando avremo fatto questo l'Italia sarà condannata per il suo futuro. Quindi è questa la nostra sfida, non i vincoli europei.